Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Io mi chiamo Lucrezia, sono di Roma e insegno l'italiano agli studenti stranieri, qui su internet ma anche nella vita reale. Mi raccomando, ricordatevi di attivare i sottotitoli. Qualche tempo fa vi ho chiesto di mandarmi le vostre domande sui dialetti che si parlano in Italia e me ne avete mandate tantissime, quindi vi ringrazio. Oggi voglio concentrarmi solamente su una domanda che molti di voi mi hanno fatto e quindi forse vale la pena soffermarsi a riflettere su questo punto. In tanti mi avete chiesto qual è la differenza tra dialetto e accento. Mi viene quindi da pensare che abbiate difficoltà a distinguere quando un parlante parla in dialetto e quando un parlante parla in italiano con un accento regionale. Quando parliamo tutti noi italiani abbiamo un accento, chi più chi meno, chi ce l'ha molto forte, chi ce l'ha meno marcato. Ma l'accento è un tratto che caratterizza la nostra parlata. Ci sono dei parlanti che non hanno accento, ma non hanno accento per via del loro lavoro, per esempio i doppiatori dei film, gli attori di teatro, alcuni attori di cinema, alcuni presentatori tv, eccetera. Quando voi venite in Italia vi troverete maggiormente in situazioni in cui i parlanti parlano italiano con un accento regionale. Quello che comunemente parlate e anche per facilità in questo video chiameremo italiano regionale. Sono molto rare le possibilità che voi vi troviate in una situazione in cui i parlanti parlano solo dialetto, perché c'è consapevolezza che la conversazione non porterà a nulla se si parla in dialetto con una persona che non conosce quel dialetto e che non è di quel posto, soprattutto quando si tratta di uno studente straniero di italiano. C'è anche da dire che la percentuale delle persone che parlano esclusivamente dialetto si è abbassata molto negli anni. Vi riporto le informazioni di una ricerca dell'Istat del 2017 che ha stimato che nel 2015 soltanto il 14% della popolazione di 6 anni e più usa prevalentemente il dialetto in famiglia, il che equivale a 8 milioni 69 mila persone. Solo il 12% parla dialetto anche con gli amici e solamente il 4,2% parla in dialetto anche con gli estranei. Ed è il caso di persone o estremamente anziane oppure di persone giovani che non hanno avuto accesso a un'istruzione o comunque hanno un livello di istruzione molto basso. E sempre nel 2015 l'uso esclusivo dell'italiano con persone estranee, quindi che non si conoscono, si attesta al 79,5%. Quindi le probabilità che voi vi troviate in una situazione in cui il parlante parla e sa parlare solo il dialetto sono davvero, 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 davvero poche. Continuando il nostro discorso, avendo notato che c'è la tendenza da parte di studenti stranieri a confondere il dialetto vero e proprio con l'italiano parlato con un accento regionale, oggi faremo un esercizio insieme. Ascolteremo dei parlanti che alternano dialetto e italiano con un accento regionale per esercitarci a distinguere le due parlate. Prima di fare ciò, però, definiamo con chiarezza che cos'è un dialetto e che cos'è un accento. Il dialetto è un vero e proprio sistema linguistico, è una lingua di fatto. Quindi se una persona parla in dialetto non solamente utilizzerà una certa pronuncia, ma utilizzerà una struttura sintattica diversa, utilizzerà delle parole completamente diverse. Il termine accento, invece, in senso generico viene utilizzato per riferirsi a delle peculiarità di pronuncia che identificano nel suo insieme una certa lingua, una certa varietà di lingua oppure un dialetto. Quando parliamo di accento non facciamo riferimento ad un sistema linguistico, facciamo riferimento semplicemente ai tratti della pronuncia, va bene? Allora, adesso facciamo questi esercizi di ascolto contrastivo. Vedremo insieme due video. Il primo video che analizzeremo insieme è una scena tratta da una puntata di Masterchef, in cui Carlo Cracco, che è un cuoco, uno chef veneto, parla ad un concorrente, anche lui veneto e questo dettaglio è molto importante, alternando italiano con un accento regionale e dialetto veneto. Ascoltiamo insieme. Ma che caffè hai usato, scusa? Eh, quello che ho trovato. Quello che ho trovato non è una risposta, Fabiano, mi fai inc***are. Non sei un ragazzino. Le risposte vanno date precise. Caffè in chicchi. Caffè in chicchi. E poi l'hai macinato. Sì, l'hai macinato. Allora, due cose. Se ti sei venuto qua per fare una carbonara, è meglio che ti torni a Portoghiero. Carbonara, il caffè ai tuoi amici. Due. Se proprio vuoi usare il caffè, non si usa il caffè in chicchi, perché non si può mangiare il caffè in chicchi. Bisogna usare il caffè disidratato. Te fai un altro piatto così, te lo darò io. Siete riusciti a distinguere quando Cracco parla in dialetto e quando parla in italiano con un accento veneto? Adesso lo rivediamo insieme. Ma che caffè hai usato, scusa? Eh, quello che ho trovato. Quello che ho trovato non è una risposta, Fabiano, mi fa inc***are. Non sei un ragazzino. Le risposte vanno date precise. Caffè in chicchi. Caffè in chicchi. E poi l'hai macinato. Sì, l'hai macinato. E fino a qui lui parla in italiano. Ha un forte accento veneto, ovviamente, ma la lingua che sta parlando è italiano. Se ti sei venuto qua per fare una carbonara, è meglio che tu torni a Portoghiero. Carbonara di caffè ai tuoi amici. Qui parla in dialetto. Quando dice, allora, due cose, due punti, e inizia a parlare in dialetto. E dice, se sei venuto qui per fare una carbonara, tra parentesi peraltro una carbonara di mare, un piatto terribile con il caffè, vabbè, torna a casa tua sostanzialmente. E quindi qui che cosa capiamo? Lui usa il dialetto perché lui è arrabbiato. Questo è molto importante. E poi continua, sempre in dialetto. La carbonara la fai ai tuoi amici. Due. Se proprio vuoi usare il caffè, non si usa il caffè in chicchi, perché non si può mangiare il caffè in chicchi. Bisogna usare il caffè disidratato. Qui, quando spiega il motivo per cui non si può usare il caffè in chicchi in un piatto, ma si deve usare il caffè disidratato, lo fa in italiano. Perché? Perché comunque è una spiegazione che può essere utile anche a tutti gli altri concorrenti e soprattutto è utile a chi guarda il programma da casa. E poi riprende e finisce il suo discorso in dialetto. Se fai un altro piatto così, te lo tiro dietro. Se fai un altro piatto così, te lo tiro dietro. Allora, perché lui alterna il dialetto? Perché il concorrente che ha davanti è veneto e quindi parla dialetto e quindi capirà quello che viene detto. Diciamo che queste frasi che Cracco ha usato in dialetto sono abbastanza comprensibili. Si capisce quello che vuole dire. Però se il concorrente fosse stato di un'altra regione, Cracco non avrebbe mai parlato in dialetto. Si parla il dialetto con chi si sa che potrà capire il dialetto. E poi abbiamo già sottolineato il fatto che lui è arrabbiato e quindi in dialetto esprime meglio la sua arrabbiatura. Vediamo adesso il secondo esempio. Questa è una scena tratta da un film che si chiama Troppo napoletano in cui ci sono due bambini. Vedrete che lei parla in italiano mentre il bambino usa il dialetto napoletano nei suoi pensieri. Parla invece in italiano con la bambina ma mantiene un forte accento napoletano. Vediamo. Ciao Ludica. Ciao Ludica. C'è un'alternanza nel parlato del bambino tra dialetto e italiano con un forte accento napoletano. Il fatto che il dialetto non venga usato nella conversazione con la bambina ma rimanga nei suoi pensieri, nella sua testa, è sintomatico dell'uso del dialetto. Quando ci si arrabbia, quando si vuole ridere, quando si è felici. È, come dire, quasi una lingua dell'intimo, se vogliamo. Concludo qui il discorso per oggi, ma continueremo questo discorso dei dialetti anche nei prossimi video, perché devo rispondere a tutte le altre domande che mi avete mandato. Grazie mille per aver guardato questo video. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!